Il ritorno degli imperi che è il tuo ultimo libro appena uscito per Rizzoli e partirei se sei d'accordo proprio dal titolo, il ritorno degli imperi l'impero che è stata un po' una formazione sociale molto comune nella storia forse la più diffusa da quando esiste la civiltà nella nostra storia recente nella storia che noi abbiamo vissuto non eravamo più abituati a sentir nominare gli imperi almeno vicino a noi, quindi la prima cosa che vorrei chiederti è che cos'è un impero nel 2022? L'idea dell'impero in realtà è venuta fuori ascoltando il discorso con il quale Putin ha legittimato e giustificato l'invasione dell'Ucraina. Ieri assieme a molti dei nostri colleghi a Repubblica l'abbiamo seguito in diretta e di fronte ai nostri occhi abbiamo sentito un uomo del nostro tempo, un leader del nostro tempo il presidente della Russia che fino a quel momento era un presidente di una delle nazioni che noi tutti abbiamo conosciuto, visitato che ha detto che un'altra nazione nell'Ucraina non esistera più non aveva diritto a esistere, non aveva una cultura, una storia, una religione e doveva essere invasa e fatta propria da un'altra. Abbiamo tutti avuto un brivido, che cosa stava succedendo? Com'è possibile che una nazione dice io mi appopio proprio di un'altra nazione? E questa è la dinamica dell'impero. La dinamica dell'impero è quando c'è una nazione più grande che dice io sono più forte, mi posso permettere di dire che tu non esisti e ti ingoio, ti mangio, ti annullo, ti cancello dalla carta geografica. E questo è stato il momento nel quale ho pensato che gli imperi stavano tornando, stava tornando fra noi una logica dove c'è qualcuno che dice solamente per il fatto che io sono più grande, più potente, ho il diritto di annullarti. Adesso che ricordi quel giorno, appunto con il discorso di Putin e l'annuncio di quella che lui chiamava l'operazione militare speciale, che poi era di fatto l'invasione dell'Ucraina. Ovviamente la storia non si fa con i sé neanche quella così recente, ma sappiamo, perché l'ha detto Zelensky stesso nell'immediatezza di quei fatti, che la prima reazione anche di solidarietà che l'Ucraina, in particolare Zelensky, aveva ricevuto, mi pare, proprio dagli Stati Uniti, era stata diciamo un'offerta di esilio, di aiutarlo nella sua fuga in un altro paese. Un'opzione che se Zelensky avesse accettato avrebbe messo tutta la situazione che noi stiamo vivendo in un'altra prospettiva. Ecco, di che cosa staremmo parlando adesso se Zelensky quel giorno fosse fuggito, come gli consigliavano gli alleati occidentali, alcuni alleati occidentali? Della riaffermazione dell'impero russo nell'Europa dell'Est, di una vittoria militare lampo da parte della Russia, della resa dell'Ucraina che ammetteva che il suo futuro era solamente all'interno dei confini della federazione russa e quindi dell'umiliazione di una giovane democrazia. Tutto questo non è avvenuto solamente perché una persona, Zelensky, ha interpretato lo spirito del suo popolo e ha detto no, io mi abbatto, resto qui e combatto. Guarda, Alessio, io sono innamorato della storia e chi studia, impara, che non si fanno i paragoni. Cioè, la storia ogni volta è diversa e ti sorprende. Però è davvero difficile non pensare al maresciallo Tito, ad esempio. Cioè, i nazisti invadono la Jugoslaria, schiacciano la Jugoslaria con una armata formidabile, eppure c'è un ufficiale delle certe di Jugoslavo che dice no, io non ci sto, io continuo a combattere. E da zero crea una resistenza formidabile che impedisce ai tedeschi, i tedeschi non riusciranno mai a conquistare la Jugoslaria. Cioè, ci sono dei momenti nella storia dei popoli, no? Dove la reazione a un sopruso è talmente forte e popolare. Il segreto di Zelensky è stato di interpretare in quel momento il sentimento degli ucraini che dicevano no, noi stiamo a casa nostra e ci battiamo. Siete più forti? Va bene. Però noi non ce ne andiamo. È stato un po' questo. E appunto, quello che tu racconti nel libro è che intorno a questa, in qualche modo anche inattesa, resistenza ucraina, si è venuto a creare una sorta di nuovo equilibrio, o forse definirlo equilibrio improprio, nel senso che ci troviamo ancora nel mezzo degli eventi, ma comunque una nuova dinamica in cui all'impero russo, che citavi prima nell'aspirazione di Putin come riproposizione di questa forma di dominazione imperiale, si contrappongono o si affiancano almeno altri tre attori fondamentali, che sono innanzitutto gli Stati Uniti, poi la Cina, con una posizione, diciamo, che potrebbe, o che almeno dal punto di vista della Russia, è considerata e bramata come possibile alleato, e poi un quarto attore, probabilmente il più inedito e sorprendente in questa fase, almeno per me che leggevo il tuo libro, che è l'Unione Europea. Ecco, che tipi di imperi, tu li chiami tutti, tutti e quattro questi, tu li chiami imperi, che tipi di imperi diversi sono? Ma quello americano, è stato anche lì una grande sorpresa, perché Putin aggredisce l'Ucraina, ed è convinto che l'Occidente e gli Stati Uniti non siano in grado di difenderla, perché ha visto la rotta devastante della Nato a Kabul, che è successo solamente il 31 agosto, quindi pochi mesi prima, ma la realtà è che, come la storia anche qui ci insegna, le democrazie quando sono aggredite fanno un quadrato, nel caso specifico fanno un quadrato attorno agli Stati Uniti, che si confermano da un punto di vista militare e tecnologico l'unico grande impero esistente. Gli Stati Uniti consentono all'Ucraina di resistere fornendogli armi a ripetizione, armi che la Russia non possiede e non è in grado neanche di fronteggiare, e dimostrano solamente con un'operazione militare e di intelligence, che non solo la rotta in Afghanistan non era la rotta degli Stati Uniti, ma era frutto di uno sbaglio commesso dal Presidente, ma dimostrano di sapere tenere in scacco l'esercito russo, che è il secondo esercito del mondo, solamente con le armi, neanche con i soldati. Anche questo è una dimostrazione di forza da parte della tecnologia americana assolutamente formidabile. La Cina in tutto questo recita un ruolo terzo, ma spettacolare, perché non entra in questo conflitto tra l'impero russo e l'impero americano, anche se simpatizza chiaramente con la Russia, ma sta alla finestra e fa capire che ci vuole guadagnare, perché la sua visione è una visione che va ben oltre e il duello fra questi due imperi, ma è imperniata sulla Cina. In realtà, attenzione, perché noi stiamo tentando di costruire una nuova globalizzazione imperniata sugli interessi della Cina e anzi questo conflitto potrebbe accelerarla. E poi, ultimo, come tu dici, c'è l'Europa. L'Europa è un impero molto sui generis, però perché non lo possiamo definire un impero? Perché è l'unica comunità di nazioni profondamente integrate fra loro e che attira... Cioè, le persone ne vogliono far parte, gli stati ne vogliono far parte. Cioè, non ci sono stati che vogliono far parte della federazione russa. Chi è che vuole entrare negli Stati Uniti? Chi è che vuole entrare negli Stati Uniti? Ci sono stati che vogliono aderire alla Cina? No. Eppure, in realtà, ci sono stati che vogliono aderire all'Unione Europea. Perché? Perché è un impero diverso, basato su valori, su interscambi di popolazione, di beni, servizi. Cioè, è un'idea diversa di aggregazione fra nazioni. E questo lo rende unico. E questo duello fra imperi così diversi, secondo me, è avvincente nel nostro tempo. Questa ultima cosa che raccontavi dell'Europa è veramente interessante e ci torneremo. Intanto voglio ringraziare tutte le persone che si stanno collegando, Jack, Bruno, Cecilia, Marco, che hanno messo mi piace. E stanno arrivando anche delle domande. Allora, intanto, c'è sempre, restando sulla questione degli imperi, Marco, che chiede se questi quattro imperi di cui parlavamo ci stanno portando davvero verso una realtà multipolare, secondo te. Io credo di sì. Sicuramente questa è l'idea della Cina. La Cina vuole cambiare l'ordine internazionale, costruire un'alleanza tra i paesi più popolosi del pianeta, le grandi economie del Sud, il Sud Africa, il Brasile, l'India, e vuole obbligare gli Stati Uniti da una parte, ma anche la Russia, a riconoscere che in questo ordine multilaterale è la Cina che guida per il motivo molto semplice che è il paese che può guidare sull'alta tecnologia, ma anche sul consumo di beni e servizi del mondo. è un'idea di governo della globalizzazione molto nuovo e che secondo me è destinato a metterci in grande difficoltà. Il duello fra Russia e Stati Uniti è molto tradizionale, è molto novecentesco, mentre poi c'è la novità dell'Unione Europea che assieme alla Cina secondo me è l'altra grande novità. C'è la fila di nazioni che vorrebbero far parte dell'Unione Europea. Che cosa faranno gli europei? Le faranno entrare oppure no? Allora, restiamo appunto sulla questione dell'Unione Europea che era quello che ti volevo chiedere. Intanto saluto Elena che ti saluta. Buonasera Elena. Tiberio che più che una domanda fa una considerazione dice Zelensky è un attore della Nato, le guerre vengono fatte solo per interessi politici ed economici. Questo è un tipo diciamo di sentimento che soprattutto in Italia devo dire esiste. Nel tuo libro racconti di come e poi della particolarità italiana parleremo cioè del fatto che effettivamente nel blocco occidentale in pochi paesi come in Italia non solo nella classe politica ma probabilmente anche nell'opinione pubblica comunque è diffuso in qualche modo un sentimento filorusso la considerazione di Tiberio diciamo non è direttamente filorussa però in questa narrazione di un ruolo quasi provocatorio della Nato nei confronti di Putin è una cosa che è molto passata da queste parti che possiamo dire da questo punto di vista Tiberio ha ragione nel dire che le guerre si fanno sempre per interessi economici e strategici non è che si fanno per il bene dell'umanità però ci sono guerre di aggressione e guerre di difesa quella dei russi è una guerra di aggressione perché ripeto si basa su un'ideologia l'ideologia è che tutti i popoli russofoni lungo i confini della Russia devono rientrare dentro i confini della Russia questo è quello che Putin ha detto lo ha detto e lo sostiene questo è il punto se lui vince in Ucraina va avanti ma lo ha detto ma che cosa devono pensare la proporzione russofona della Lettonia dell'Estonia della Mongolia del Kazakhstan sono tutti impauriti perché dicono se vincono in Ucraina se riescono ad aggregare con forza una minoranza russa alla grande madre russia aggrediranno altri stati non c'è dubbio che è una guerra ideologica ti bevi o hai ragione le guerre in genere si basano su interessi socio-economici ma in questo caso esattamente come era la guerra dei nazisti o dei nazifascisti contro gli altri paesi è una guerra ideologica si basa sulla convinzione che la propria etnia ha più diritti degli altri e quindi questo è qualcosa che sinceramente a me sconvolge cioè io l'avevo letto come tutti noi sui libri di storia mai avrei pensato di trovarmi in una situazione analoga e sinceramente la cosa che vedo invece con favore è che i russi in qualche maniera resistono dall'interno a questa ideologia ci sono centinaia di migliaia di russi che non vogliono combattere tentano di scappare scendono in piazza protestano questo significa che dentro la russia è una nazione sana che sono i russi per prima ad accorgersi che non è che il proprio futuro è aggredire un altro paese il proprio futuro è studiare fare ricerche viaggiare nel mondo cioè costruire affrontare i cambiamenti climatici ma nel 2022 il futuro di un ragazzo di vent'anni cambia tra San Pietroburgo o a Vladivostok e andare a occupare Kiev ma cioè no? e questa è la sensazione di shock profondo che io come dire ho provato e ho tentato di raccontare anche nel libro c'è Jack che diciamo ci proietta un po' verso il futuro e dice nel caso alla fine in questo nuovo equilibrio mondiale l'Ucraina dovesse alla fine riuscire nel suo percorso di adesione all'Unione Europea che cosa guadagnerebbe l'Ucraina e ci chiede Jack che cosa guadagnerebbero gli Stati Uniti ma io credo che l'Ucraina ne guadagnerebbe sul piano del riconoscimento della propria identità cioè che cos'è l'Europa l'Europa è un grande spazio umano che inizia geograficamente dagli Urali a Est arriva fino all'Atlantico inizia al circolo polare Attico e arriva fino al Mediterraneo questa è l'Europa tutti i popoli che si trovano a vivere a soggiornare o a attraversare a questo spazio umano appartengono all'Europa quindi l'Ucraina fa parte di questo ma ne fa parte anche la Russia dell'identità europea quindi io credo che l'Unione Europea tenda inevitabilmente a rispondere positivamente in un momento impreciso nella storia alla richiesta di edizione di questi popoli chi fra noi può veramente dire che gli ucraini non sono europei ma come si fa è come dire che i portoghesi non sono europei ma come facciamo a dire che i russi non sono europei certo c'è una Russia europea e c'è una Russia asiatica ma sul fatto che San Pietroburgo sia una città europea ma chi può discutere questo ora io credo che questa sia la grande intuizione dei parti fondatori dell'Europa e no quindi cosa guadagna l'Ucraina guadagnerebbe nel riconoscimento della propria identità e cosa guadagna l'Europa io credo che l'Europa seguendo questa intuizione dei parti fondatori di Monet di Schumann di Altiero Spinelli di integrare tutti i popoli che in qualche maniera la compongono hanno fatto la sua storia diventa se stessa cioè è una nazione è una grande comunità umana in via di formazione e forse questo è il suo grande fascino e Jack chiedeva se c'è anche un interesse americano da un'adesione dell'Ucraina all'Europa ma anche non necessariamente alla Nato io credo che l'interesse degli Stati Uniti sia quello di indebolire la Russia sia quello di cogliere l'occasione dello sbaglio fatto da Putin per indebolire la Russia in maniera strategica al fine di arrivare a un accordo con la Cina alle spese della Russia credo che sia questa l'opportunità sinceramente quando gli Stati Uniti hanno fatto il ritiro da Kabul con quell'errore incredibile commesso da Biden di definire una deadline una data specifica e quindi di gettare il paese nello scompiglio tutti noi pensavamo che in qualche maniera fosse anche l'inizio del declino americano ma l'America è una grande democrazia si è saputa correggere e adesso sta tentando di investire sull'errore altrettanto incredibile commesso da Putin per l'America è una nazione veramente imperiale quindi pensa da impero e quindi ritiene che proprio interesse sia un accordo con la CIN da fare sulle ceneri dell'errore di Putin chiaro saluto Gaia che ti saluta e ti leggo questa considerazione di Anna che è provocatoria ma secondo me interessante cioè Anna dice alla fine l'interesse ucraino per un ingresso nell'Unione Europea è dettato soltanto dalla paura e non dai valori che ne pensi? no io penso che anche qua io sono stato in Ucraina la prima volta quando ci avevo 19-20 anni c'era ancora il muro e l'Europa era divisa in due e ero andato a fare una vacanza a Kiev c'erano tutti questi ucraini che mi incontravano per strada e mi chiedevano di Roma dell'Italia di Ostia cioè gli ucraini appartengono al nostro mondo e io questo viaggiando uno incontrando le persone c'è la Georgia Tbilisi sono stato una settimana a Tbilisi Tbilisi è come se fossero il Molise l'Abruzzo una provincia di Agrigento cioè sono regioni molto simili al nostro mondo cioè noi le abbiamo conosciute poco perché l'Europa era divisa in due però credo che basti incontrarli non c'è dubbio che sono cristiani ortodossi quindi hanno una religione che in Italia è minoritaria non è molto presente però la realtà vera è che l'Europa è da sempre la culla di più religioni più identità cioè l'idea di pensare all'Europa come un monolite culturale è più grande degli errori l'impero romano che cos'era? era un crogiolo di tante identità quindi sostanzialmente io credo che noi apparteniamo all'Ucraina come alla Georgia come all'Estonia come alla Russia così come loro appartengono a noi questo è il punto perché è un unico spazio umano che nella storia ha visto le popolazioni muoversi attenzione questo è un altro concetto profondo le migrazioni noi siamo un continente fatto da migrazioni da popolazioni che sono spostate in continuazione e quindi è un po' questo quello invece la logica delle guerre e dei confini va in un'altra direzione e nasce sempre dal fatto che c'è qualcuno che si vuole imporre su qualcuno allora ti faccio la domanda che volevo farti da prima sull'Europa e cioè tu in questo libro che tra l'altro ne approfitto per dire un'altra cosa che è molto bella proprio della fattura del volume cioè che è pieno di carte di mappe che permettono di capire un sacco di cose anche proprio a un primo sguardo ci sono veramente delle mappe bellissime e quello che tu dici a un certo punto quando parli di questo strano impero europeo è sottolineare una cosa che ormai diciamo abbiamo imparato a considerare spesso cioè la distanza che c'è tra il potenziale la forza anche quello che è già avvenuto per esempio sul piano economico nell'integrazione europea e invece la mancata integrazione o comunque la scarsa integrazione dal punto di vista politico dal punto di vista della difesa comune eccetera che abbiamo che abbiamo che stiamo sperimentando soprattutto adesso con la crisi energetica e con la guerra in corso però nella capacità di attrazione dell'Europa di cui parlavi tu e cioè questa situazione straordinaria e probabilmente senza precedenti nella storia di un impero di fatto che non deve andare a conquistare gli altri territori ma che vede gli altri paesi in fila per aderire non ci sarà anche proprio il fatto che l'Europa tutto sommato è un posto che questi vincoli politici e in particolare politici così stretti non ce li ha e che quindi per un paese è più facile dire entriamo nell'Unione Europea sapendo che continueremo avere il nostro Parlamento che continueremo ad avere le nostre leggi eccetera e come si fa se la risposta è sì a fare in modo che questa cosa diventi un'altra cosa senza perdere la sua capacità d'attrazione la tua domanda che ha a che vedere con la costruzione europea è una domanda molto attuale e non c'è dubbio che l'Europa sin da quando è stata fondata Roma nel 1957 è sempre cresciuta a piccoli passi fra le contraddizioni risolvendo delle crisi perché perché costantemente tenta di armonizzare questa vocazione questa volontà di stare assieme con la difesa poi dell'identità nazionale questo è un po' il contrasto e ciò che distingue l'Europa dalle altre realtà nazionali è che c'è questo tentativo di farle coincidere sempre parliamo delle cose più attuali per capire di che cosa stiamo parlando guardiamo la pandemia quando la pandemia e il covid è iniziato la sanità non era nelle competenze della commissione europea non era fra i temi che i paesi dell'unione europea avevano deciso su questo lavoriamo assieme e in effetti quando l'Italia per prima è stata aggredita dalla pandemia è stata lasciata sola l'Europa per uno due tre settimane ci ha lasciato sola perché non c'erano meccanismi poi però che cosa è successo che gli idei europei si sono resi conto che la pandemia non sarebbe rimasta solamente in Italia ma che sarebbe andata in Germania in Francia e quindi nonostante che i regolamenti dell'unione europea non provvedevano di coordinare gli sforzi sulla sanità lo hanno iniziato a fare e iniziando l'Europa si è difesa e anche di fronte a un nemico invisibile che nessuno aveva mai visto ma l'Europa si è difesa meglio degli Stati Uniti e si è difesa meglio della Cina i dati di fatto dimostrano questo perché? perché da un punto di vista dello sviluppo delle sanità nei singoli paesi la realtà è che i paesi europei hanno delle sanità nel complesso che danno dei servizi migliori a quello che negli Stati Uniti il Kansas o New Jersey o il Texas dai loro cittadini per non parlare della Russia o della Cina dove i governi che sono dei governi autoritari mentono sulla capacità della sanità quindi il punto vero è che l'Europa è riuscita ad unirsi anche se non aveva nel suo DNA questo e i risultati sono stati positivi adesso è importante secondo me che lo faccia di nuovo sull'energia perché? perché se l'Europa agisce assieme sull'energia riesce a tenere basso il prezzo del gas e quindi tutti quanti lo paghiamo di meno se invece gli Stati Europei continuano a farsi competizione fra loro è quello che aveva capito Draghi e giustamente Draghi faceva pressione sulla Germania che invece continua a sostenere la divisione sull'energia che non giova a nessuno in fondo a questa strada secondo me c'è un'Europa che oggi ha 27 membri che fino a questo momento decide quasi sempre all'unanimità secondo me l'Europa dovrà decidere a maggioranza sarà per tutti noi un momento molto difficile però il punto è che quando tu hai 27 Stati che prima o poi diventeranno 30 e 35 perché è inevitabile che sia così il punto è che non si può sempre decidere all'unanimità perché all'unanimità alla fine non ci sarà mai perché per un motivo o per l'altro per un interesse nazionale o l'altro rischiamo di essere tutti fermi invece decidere che su alcuni argomenti specifici non su tutti ma si vota a maggioranza la protezione dei diritti la protezione dei consumi lo sviluppo della tecnologia cioè delle questioni che veramente servono per progredire in realtà questo può rendere l'Europa più forte ma votare a maggioranza significa in realtà ridurre il peso degli stati sull'Unione Europea cioè fare un passo in più verso questa idea di un'Europa federale nella quale io credo profondamente Jack e Anna ti ringraziano per le risposte secondo te questa cosa di cui parlavi e che mi sembra che tu consideri abbastanza inevitabile so che è difficilissimo fare previsioni del debito comune europeo si era parlato per un decennio e alla fine appunto l'accelerazione della pandemia ha fatto in modo che di fatto questa cosa sia avvenuta quasi dalla mattina alla sera secondo te questa questa trasformazione dell'Europa in un'unione politica federale è una cosa che vedremo noi cioè una cosa di questa generazione secondo me Alessio lo dico anche chi ci sta seguendo secondo me è assolutamente inevitabile perché è nel nostro interesse e guardate che tutti noi abbiamo attraversato con la pandemia qualcosa di terribile tutti noi siamo stati chiusi per settimane mesi dentro le case e non sapevamo che cosa sarebbe successo alle nostre vite fino a quando non sono arrivati i vaccini cioè il punto è che io stesso io ho una famiglia con quattro figli ma io mi chiedevo che succede che si fa cioè se non arrivano i vaccini da dove sono arrivati i vaccini i vaccini sono arrivati dall'Europa e anche dagli Stati Uniti da delle start up di biotecnologie questo è il punto cioè sono arrivati dal cuore del nostro mondo che cos'è una start up di biotecnologia nel caso specifico una start up tedesco-turca con uno sviluppo in Gran Bretagna è un gruppo di persone che si mettono a lavorare su un progetto scientifico e quelli hanno indovinato la formula del vaccino perché nel nostro mondo c'è la competizione ci sono i diritti c'è la certificazione il controllo della scienza e questo ci ha portato il vaccino cioè noi abbiamo di fronte ai nostri occhi la testimonianza che noi siamo fortunati a vivere in uno specchio del mondo dove le regole e la conoscenza e la libertà ci proteggono il punto è che l'integrazione ci rende più forti e allora perché dovremmo essere destinati a rimanere più deboli perché dovremmo consentire al sovranismo degli stati all'egoismo degli stati di tornare perché dovremmo consentire ai confini di tornare tutto questo ci rende più deboli è giusto che ognuno ogni paese conservi la propria identità questo è giustissimo è sacrosanto ma integriamo tutto il resto ma secondo te in questa diciamo rabbiosa reazione di Putin ci può essere anche questo che raccontavi cioè essersi reso conto a causa della pandemia della della distanza che c'è tra il suo paese e i vicini occidentali ricordiamo tutti nei mesi in cui qua ancora non c'era un vaccino per tutti la vicenda dello Sputnik che adesso è una di quelle tante cose della pandemia che già stiamo dimenticando ma c'è stato un periodo in cui sembrava che il vaccino noi l'avremmo dovuto prendere in Russia quel vaccino era una totale possiamo dirlo farsa nel senso che non ha apportato nessun nessun tipo di risultato secondo te Putin adesso si sta muovendo anche scottato da quella da quell'esperienza sì io credo di sì sinceramente penso di sì io penso che Putin si sia reso conto da come è andata la pandemia e da come è andata sta andando la guerra in Ucraina che il ritardo tecnologico del suo paese rispetto all'occidente è incolmabile e credo anche che da profondo conoscitore della Russia si sia reso conto che questo grande ritardo nasce da un da un bonus che è lo stesso che aveva l'Unione Sovietica che è la corruzione il punto è che quando tu hai delle grandi organizzazioni statali dove tutti dicono di sì perché comanda quello che è più importante di te alla fine nasce un sistema di corruzione tutti dicevano a Putin abbiamo il vaccino il vaccino funziona ma nessuno aveva controllato e quindi tutto si basava su delle bugie così come probabilmente i generali avevano detto a Putin abbiamo il più grande degli eserciti il più moderno degli eserciti e dopo due settimane è evidente che non avevano neanche il controllo dei cieli queste lunghe colonne di carri armati russi sono stati fermati dai droni turchi dai droni turchi ora questo significa che i generali per almeno venti anni hanno avuto fondi da Putin per costruire un esercito gli hanno raccontato che stavano costruendo il più moderno degli eserciti e in realtà hanno usato quei soldi per altre cose quindi e questo è il bonus dei dispotismi no? cioè quando tu crei un sistema basato sull'onipotenza dello Stato alla fine c'è la corruzione e la corruzione impedisce lo sviluppo della tecnologia e quindi la retratezza e credo che per Putin trovarsi di fronte alla ripetizione in Russia della stessa debolezza fondamentale che segnò la fine dell'Unione Sovietica deve essere qualcosa di molto molto difficile da accettare certo proviamo ad avvicinarci un po' dalle nostre parti ieri durante il dibattito in Senato per la fiducia al governo Meloni ha preso la parola a un certo punto Silvio Berlusconi che proprio nei primi passaggi del suo intervento ha ricordato quando lui si era fatto diciamo alfiere di una proposta diplomatica volta a portare la Russia diciamo nell'alveo dell'Europa del Consiglio d'Europa ricordiamo il G8 eccetera al di là dei meriti personali nel senso nel racconto di Berlusconi questa cosa si iscrive tutta al suo merito credo che ci siano state dinamiche più complesse ma a parte questo quel tipo di tentativo che effettivamente venne fatto una decina o più di anni fa era un tentativo serio e aveva reale possibilità di riuscita cioè effettivamente c'è stato un momento in cui stavamo prendendo una direzione che ci avrebbe portato adesso a considerare la Russia un partner prossimo e non un nemico come sta avvenendo in questi mesi io credo che quella opzione quella possibilità esisteva ovviamente non dipese da Berlusconi dipese dall'impatto del 11 settembre la Russia comprese che il jihadismo così come minacciare le democrazie minacciava anche la Russia semplicemente perché è geograficamente più vicino alla Russia che non all'Occidente e quindi la Russia immaginò una maggiore integrazione con la Nato e anche con l'Unione Europea e forse non abbiamo saputo cogliere quell'opportunità forse è prevalso in ultima istanza un sentimento di di dubbio di perplessità di scetticismo c'è stato un ritardo nel parlare ad esempio con Dimitri Medvedev oggi Medvedev è uno dei falchi più feroci del Cremlino con posizione addirittura più nazionalista di Putin ma in realtà quando sostituì Putin al Cremlino era il più grande degli alleati dell'Occidente lui si presentò come il presidente che voleva al posto di Putin aprire e integrare il rapporto con l'Occidente più più del suo predecessore quell'occasione è stata è stata persa quindi c'è una responsabilità ovviamente quando queste cose avvengono è sempre di entrambe le parti però sì io credo che ci sia stata dopo l'11 settembre un periodo una finestra di opportunità di 4, 5, 6 forse 10 anni nella quale una maggiore integrazione della Russia sarebbe stata possibile ma certo l'Occidente avrebbe dovuto in qualche maniera aprire il proprio seno e i propri interessi agli interessi della Russia e la Russia di Putin avrebbe dovuto rinunciare naturalmente a ogni tipo di ambizione nel suo spazio geografico e nessuno di due ha fatto questa scelta e allora appunto abbiamo parlato dell'Italia e del dibattito sulla fiducia al governo Meloni intanto in questo scacchiere che racconti nel libro dei quattro imperi il ruolo dell'Italia mi sembra che sia insomma abbastanza cruciale qual è la posizione del nostro paese? Noi siamo il campo di battaglia perché questo? Perché l'Europa è sicuramente la zona più contesa fra Russia Cina e Stati Uniti entrambi questi tre grandi imperi hanno bisogno dell'Europa l'Europa fa parte integrale dello schieramento dell'Occidente la Russia la vuole staccare dagli Stati Uniti e quindi è il terreno sul quale anche l'aggressione ucraina è testimonia che stanno scommettendo su questo e la Cina ha bisogno dell'Europa per creare la nuova via della Sida cioè una grande struttura di infrastrutture di una grande catena di infrastrutture terrestre marittime dai mari d'Oriente fino all'Atlantico ha bisogno vitale del mercato europeo che è il mercato più ricco del pianeta quindi tutti hanno bisogno dell'Europa il punto qual è? che in questo gioco di grande sfida sull'Europa la parte più strategica è il Mediterraneo e il Mediterraneo noi siamo nel bel mezzo del Mediterraneo quindi come dice Kissinger a volte ma anche il Metternich lo diceva la geografia impone dei dati strategici la mia impressione è che spesso gli italiani non si rendono conto di quanto la geografia li precipita al centro della storia noi ci riteniamo noi siamo spesso una nazione insolare ci guardiamo solamente all'interno ma invece abbiamo un ruolo straordinario senza il Mediterraneo l'Occidente non esiste senza il Mediterraneo la Russia non può tornare protagonista della scena internazionale e senza il Mediterraneo non c'è nessuna via della scena possibile quindi tutti hanno bisogno del nostro paese quindi in Italia l'Europa gli Stati Uniti giocano in difesa per tenere il nostro paese saldo nel fronte occidentale mentre gli altri due rivali la Russia e la Cina stanno facendo di tutto per staccare l'Italia del blocco occidentale siamo il premio più conteso la nazione più contesa all'interno di un'Europa che è il vero terreno di scontro fra gli imperi ringrazio Palsival che sta mandando rose e regali di ogni tipo e Alex che dice ci ringrazia per l'ottima live e ti chiedo in questo appunto ruolo strategico cruciale dell'Italia il cambio di governo che effetti può avere? Il cambio di governo ha fatto un po' temere a tutti che ci fossero delle scosse profonde per il motivo molto semplice che due dei partner della coalizione di destra Salvini e Berlusconi hanno dei legami molto forti con la Russia e non li nascondono anzi ne sono orgogliosamente protagonisti loro non i loro partiti attenzione non sto parlando della lega di Forza Italia sto parlando di Salvini e di Berlusconi e Giorgia Meloni che ha vinto le elezioni con questi alleati dopo la vittoria ha fatto di tutto per dire che invece lei sarebbe stata salda nel tenere la posizione dell'Italia fedele alle alleanze in continuità con Draghi però certo c'è un interrogativo politico come farà nel medio termine non diciamo nel lungo ma in due tre anni in situazioni di crisi come per esempio si potrebbero verificare aginare da sola due alleati che hanno già detto di criticare le sanzioni perché che cosa significa oggi essere dalla parte dell'Ucraina per l'Italia fondamentalmente confermare due scelte mandare le armi all'Ucraina e conservare le sanzioni alla Russia questi sono i due pilastri della posizione europea e occidentale Salvini e Berlusconi sono contrari alle sanzioni alla Russia il presidente della camera Fontana leghista appena si è insediato il giorno dopo ha criticato le sanzioni come farà la Meloni a tenere assieme questa coalizione riuscirà nessuno dubita della sua volontà il punto vero è che sarà davvero possibile da qui gli interrogativi e quindi naturalmente l'attenzione grandissima della comunità internazionale ma a cominciare dagli europei ma anche dai russi per quello che sta avvenendo guarda chi ci sta seguendo secondo me l'elemento interessante di questi giorni è stato come i russi hanno descritto ai russi quello che sta venendo in Italia cioè come i diplomatici russi che servono in Italia che cosa hanno detto alla TAS e hanno detto l'Italia si sta avvicinando alle posizioni russe quindi questa è la loro opinione hanno detto al loro pubblico gli hanno detto con questo governo l'Italia è più vicina a noi perché evidentemente loro fanno uno più uno e dicono questo governo quando ci sarà di decidere sulle sanzioni potrebbe rompere la coalizione europea Anna ti fa una domanda che diciamo penso venga abbastanza spontanea e tra l'altro insomma mi ricorda un ruolo che l'Italia ha giocato o ha creduto di giocare in altre situazioni del genere in cui era contesa tra varie parti e non sempre è riuscita a fare la scelta giusta insomma Anna ti chiede se tra questi vari litiganti l'Italia gioca in qualche modo da protagonista oppure si limita a guardare se posso se posso integrare la domanda che ti fa Anna diciamo ci siamo trovati in situazioni del genere negli altri due grandi conflitti del novecento sia nella prima che nella seconda guerra mondiale in cui le potenze contrapposte chiedevano tutte quante che l'Italia intervenisse da una parte e dall'altra nel caso della prima guerra mondiale alla fine la scelta si rivelò in qualche modo per quanto tragicamente trattandosi di una grandissima carneficina in qualche modo azzeccata nel senso che l'Italia poi si schierò dalla parte dei futuri vincitori la seconda guerra mondiale con l'alleanza nazifascista sappiamo com'è andata come se la sta giocando l'Italia secondo te in questa fase in questo caso l'anomalia è stata che l'Italia di Draghi è stata la protagonista della creazione di un blocco euro-atlantico a difesa dell'Ucraina non c'è dubbio che l'alleato più importante che Biden ha avuto in Europa è stato Draghi è stato Draghi che ha guidato la Francia ha guidato la Germania ha guidato Ursula von der Leyen ha spiegato a loro che l'Europa non poteva dividersi al suo interno e dagli Stati Uniti questa idea di comunità euro-atlantica della quale lui spesso ha parlato in Parlamento è stato l'architrare la spina dorsale della scelta di sostenere l'Europa quindi il ruolo politico prima ancora che economico militare che l'Italia ha giocato è stato di primissimo primissimo piano e da qui l'interrogativo se con la Meloni questo ruolo verrà conservato oppure no detto questo va detto per onestà che noi abbiamo oramai grazie a un'esperienza di 20 o 30 anni una comunità militare di intelligence formidabile che gli alleati europei e atlantici ci invidiano uomini e donne straordinarie che conoscono il Mediterraneo e le regioni limitrofe che operano assieme agli alleati con grandissima professionalità e che possono essere uno strumento straordinario per la difesa del nostro interesse nazionale c'è Alessio che dice questo è un punto fermo l'Italia è fondamentale per il mondo il governo è nuovo diamogli tempo mi aggancio a questa considerazione di Alessio per diciamo completando un po' il quadro ricordare anche che in effetti quelle cose che dicevamo a proposito delle aderenze o delle tentazioni nel campo del centro-destra verso la Russia e la Cina non sono estrane neanche al campo del centro-sinistra nel senso che nel Movimento 5 Stelle Conte persino lui stesso ha avuto posizioni diciamo di critica nei confronti della vendita delle armi all'Ucraina per esempio per non parlare della sinistra più estrema che diciamo in questi mesi si è schierata da una parte nei confronti di un giusto pacifismo o comunque desiderio di pace ma anche ha una critica netta nei confronti della Nato e di tutti gli alleati occidentali tutto questo per dire che forse diciamo la parentesi Draghi era molto legata anche al fatto di essere un governo d'unità nazionale e tecnico e nel momento in cui il governo torna a essere politico sia nel campo del centro-destra che nel campo del centro-sinistra la situazione non sarebbe semplice assolutamente non c'è nessun dubbio su questo come non c'è nessun dubbio che il vero rivale e critico della scelta euro-atlantica di Draghi sia stato Giuseppe Conte Giuseppe Conte è stato alla guida dei 5 Stelle il leader che più ha contestato l'invio delle armi che più ha contestato le sanzioni che più ha contestato le scelte compiute da Draghi la missione di Draghi a Washington nell'incontro con Biden è stata costantemente una spina del fianco e questo messo assieme con i rapporti di Salvini e Berlusconi con la Russia e con Putin spiega perché ci siamo trovati nel paradosso con una situazione parlamentare dove su questo tema specifico il vero interlocutore di Draghi era il capo dell'opposizione cioè la Meloni nel paradosso dei paradossi però l'Italia è un laboratorio di politica incredibile perché ci studiano perché questo è avvenuto e non solo è avvenuto ma ha avuto come conseguenza che quando la Meloni vince le elezioni si impossessa della politica estera di Draghi però l'interlocutivo è legittimo l'interlocutivo è legittimo riguardo della Meloni ma anche lo scrivamento di sinistra infatti quando si discute molto il futuro del PD del campo progressista bisogna fare attenzione perché questi sono temi oramai molto identitari il PD è stato il PD di Letta ha il merito di aver sostenuto da subito l'invio di armi e le sanzioni alla Russia in questa maniera ha interpretato un sentimento che era stato molto presente all'inizio il sostegno dell'Ucraina in Italia era massiccio il PD gli ha dato voce e gli ha dato espressioni in Parlamento anche se c'è un'estrema sinistra che motivata da un anti-americanismo che viene dalla stagione della guerra fredda non riesce a vedere i diritti dell'Ucraina io ho grande rispetto per il movimento per la pace però non possiamo ignorare il fatto che le piazze non si sono riempite e che quando ci sono state e sono sempre state estremamente stridenzite com'è possibile che le piazze che si riempivano per il Vietnam contro la missione americana in Afghanistan invece nel caso dell'aggressione a l'Ucraina il movimento pacifista non ha riempito le città italiane contro Putin è un interrogativo atroce anche sulla legittimità del mondo pacifista perché se il pacifismo è venato da ostilità nei confronti degli Stati Uniti si indebolisce nella sua identità e pensando appunto al ruolo che la geografia in qualche modo anche assegna all'Italia e che l'Italia dovrà riuscire ad occupare e ad onorare c'è un'altra portaerei nel Mediterraneo che è la Turchia tu ne parli nel tuo libro che anche in questa crisi appunto sta giocando un ruolo come si colloca Erdogan in questa situazione Erdogan spiega perché abbiamo messo questa tipologia di mappe nel nostro nel nostro libro ci sono dei momenti nei quali la geografia genera talmente tante novità che la maniera per conoscerle subito come facevano gli antichi esploratori è disegnarle perché sono talmente tante che non riesce altrimenti ad afferrarle nella loro complessità allora la Turchia si trova geograficamente al confine fra la Russia e l'Occidente appartiene alla Nato ma è un alleato di Putin eppure nel caso dell'Ucraina ha dato armi all'Ucraina contro Putin e al tempo stesso Erdogan è il migliore interlocutore di Putin nel possibile negoziato con gli Stati Uniti come è possibile questo? la risposta è che in Medio Oriente queste cose sono possibili in Medio Oriente ovvero se una nazione è orgogliosamente protagonista dei propri interessi nazionali e ha gli strumenti l'aggressività la ferocia per difenderli come fa la Turchia alla fine tu dialoghi con tutti allora la Turchia è un grande polmone umano di quasi 90 milioni di abitanti ha il secondo esercito più potente della Nato è il maggior partner energetico della Russia e quindi ha delle molle da giocare su un fronte ma anche sull'altro e lo fa in maniera assolutamente sprogiudicata ma solamente chi conosce il bazar dall'interno sa che così si vive in Medio Oriente l'unica ricetta per la sopravvivenza dentro un bazar è fare affari con tutti e appunto in questo diciamo rapido ma entusiasmante giro del mondo siamo finiti nel Medio Oriente e quindi ti devo fare una domanda su quello che sta succedendo in Iran nel senso che abbiamo visto varie volte nel corso degli ultimi anni dei movimenti di protesta che hanno riguardato il paese degli Ayatollah quello che sta succedendo ormai da più di un mese dopo la morte di Masa Minì ricordiamo questa ragazza che è stata arrestata dalla polizia morale perché non portava il velo in maniera adeguata ed è poi finita in coma probabilmente per le percosse ed è morta si è scatenata una rivolta che in questo caso sembra davvero differente rispetto alle altre nel senso che non sembra esaurirsi cosa sta succedendo e cosa ti aspetti che accada? La diversità è che questa non è una rivolta politica o sociale ci sono state dalla rivoluzione islamica nel 79 in Iran rivolte politiche di gruppi di opposizione pro contro lo Shah pro contro singole fazioni della teocrazia iraniana ci sono state le rivolte del pane in ogni caso la teocrazia iraniana è uscita a difendersi ma in questo caso sta avvenendo qualcosa di completamente diverso la rivolta si basa sui diritti delle donne le donne sono la maggioranza degli abitanti dell'Iran e le donne sono le principali vittime della teocrazia che ha imposto a loro dei costumi delle abitudini che non appartengono alla cultura di una grande nazione come la la Persia o l'Iran che vogliamo dire e che penalizzano la parte più vitale della società iraniana io ho avuto il privilegio come cronista di andare molte volte in Iran e ogni volta mi sono reso conto quanto le donne sono forti nell'ossatura di questo paese perché sono quelle che lavorano di più nelle famiglie sono quelle che da una parte attengono i figli ma dall'altra sono avvocati ingegneri soldati generali ammirati cioè le donne iraniane sono una forza della natura perché sono un'ossatura del paese esattamente come la Turchia l'Iran è una nazione indoeuropea non è con tutto il rispetto non è l'Arabia Saudita le donne iraniane sono come le donne turche e io devo dire che in diverse occasioni quando un giornalista va in questi paesi ha sempre bisogno di uno stringer di qualcuno che ti fa da traduttore io spesso prendevo giornaliste iraniane io ho visto queste giornaliste iraniane fermate e aggredite dalla polizia dalla polizia religiosa i basici solamente perché avevano le unghie smaltate o il rossetto ma la forza con cui reagivano da sole e strillavano a questi poliziotti dicendogli lasciateci stare lasciateci lavorare il punto è che quando le donne iraniane si mettono in moto è una forza che nasce dalle viscere del paese a che vedere con i diritti ed è incontenibile è ingestibile quindi io credo che dobbiamo guardare a questo suo movimento con grande attenzione con grande passione con grandissimo rispetto e capire che è l'iran che si sta rimpossessando della sua società qualcosa di profondo che credo che se dovesse avere successo potrebbe avere un impatto ben oltre i confini dell'iran perché direbbe a tutti noi che l'oppressione anche in base ai principi religiosi di un gruppo umano come sono le donne che sono maggioritarie ormai in tutti i paesi alla fine non può avere successo c'è Palsival che sta seguendo questa diretta con grandissima passione e che ti chiede se puoi dire qualcosa sul Sahara occidentale per favore visto che lui è di origine marocchina il Sahara occidentale è un posto dove sono stato a Dakhla sono stato è un posto fantastico dove fare altre cose si fanno due cose si va a fare ovviamente a conoscere il deserto ma si coltivano anche le sardine alcune delle sardine più buone che si mangiano in Nord Africa e anche in Europa il Sahara occidentale è una ragione di confine contesa dove c'è una popolazione che si è opposta al Marocco che ha dato via anche una resistenza armata il movimento polisario che è stato alimentato dall'Algeria da una nazione confinata e questo ha rovinato tutto perché quello che poteva essere solamente una questione di autonomia da parte di una ragione sotto il controllo del Marocco è diventata invece una rivalità fra stati è ancora più complicato perché durante la guerra fredda l'Unione Sovietica sosteneva l'Algeria gli Stati Uniti sostenevano il Marocco e quindi attorno alla vicenda del Sahara occidentale c'è stato uno sconto che andava ben oltre gli equilibri in Africa occidentale io sostanzialmente credo che il Marocco sia uno dei paesi del Nord Africa più vicini a noi è molto interessante la storia del Marocco e la cultura perché è un paese dove convivono tutte le religioni in maniera più integrata che in nessun altro paese arabo attenzione la Costituzione marocchina è una Costituzione che mette sullo stesso piano arabi cristiani andalusi ed ebrei la cittadinanza marocchina non è legata all'Islam stiamo parlando di un paese di grandissima cultura e grandissima integrazione e probabilmente ha dentro di sé secondo me del DNA la possibilità anche di risolvere una questione complessa come il Sahara occidentale certo avrebbe bisogno di un partner importante nella GV e la la domanda che ti ha fatto Palsival avviandoci verso la conclusione ci dà l'opportunità di nominare l'ultimo attore tra i tanti che citi nel tuo libro perché appunto a causa delle ultime crisi l'abbiamo un po' perso di vista il ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan è stato un po' il simbolo plastico di questo tra virgolette riflusso ma c'è sempre in campo la jihad islamica che è un po' sparita dai radar ma continua in realtà ad operare su questo che possiamo dire? Alcune delle mappe del libro fanno vedere come i gruppi jihadisti ormai hanno la loro roccaforte in Africa l'hanno nel Sahel ce l'hanno in Mozambico adesso si stanno installando nel ce l'hanno in Somalia si stanno installando in Mozambico l'Africa orientale e il Sahel sono le regioni dove i gruppi più violenti dell'integralismo islamico si stanno moltiplicando perché? perché sono regioni dove gli Stati sono falliti non riescono a esercitare la propria sovranità certo non c'è dubbio che lo Stato islamico è tornato in Afghanistan e sta tentando di attaccare i talebani dall'interno per rafforzarsi anche lì perché non c'è una forte autorità statale però se io dovessi dire la regione più pericolosa è quella del lago Shat attorno ai confini del Niger nella regione del Sahel il Mali e ahimè lì c'è un ruolo che i mercenari russi stanno svolgendo quelli della Wagner che a volte è molto ambiguo su questo a volte c'è l'impressione che fomentino proteggono questi gruppi in chiave anti-occidentale anti-francese noi come Italia abbiamo interesse a una stabilità nella regione del Sahel e ad agginare questi gruppi terroristi lì dove sono nel Sahel e in Africa orientale affinché non possano avvicinarsi al Mediterraneo abbiamo raccontato una situazione molto molto complessa e anche diciamo molto grave nel senso che per definizione ci troviamo nel mezzo di una guerra però io sia dalla lettura del tuo libro che dalla chiacchierata interessante di questa sera ho l'impressione che tu sia ottimista dopo tutto è così? sì io sono profondamente ottimista sono profondamente ottimista perché credo non solamente nell'intima bontà dell'uomo cioè credo che l'uomo fa il bene e il male alla fine sceglie il bene ma credo che alla fine in tutti i confronti fra il buio e la luce fra le democrazie e il dispotismo alla fine la democrazia si impone sempre quello che sta avvenendo in Iran credo che lo confermi e quello che sta avvenendo in Ucraina lo conferma i russi che fuggono da Putin lo confermano cioè il punto vero è che quando gli uomini sono posti di fronte alla scelta drastica fra chi costruisce difende la libertà e chi distrugge annega la libertà la risposta degli esseri umani è sempre in favore della libertà e della democrazia poi alla fine naturalmente dentro le democrazie ci si divide si combatte ci sono conflitti profondi però il punto vero è che lo spazio della democrazia secondo me è destinato ad allargarsi ed a prevalere in questo secolo come è avvenuto nel secolo del passato adesso la sfida è da parte delle autocrazie quella cinese è formidabile avvincente interessantissima per questo ne abbiamo scritto però se io dovessi scommettere alla fine scommetterei sempre sulle democrazie e come ha scritto Giuseppe poco fa nei commenti leggendoti evidentemente nel pensiero ha sintetizzato secondo me in maniera molto efficace la libertà piace a tutti e questa direi che è un'affermazione innegabile Alessio ti scrive parole sante signor Molinari io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e che sono stati numerosissimi ringrazio ovviamente il direttore di repubblica Maurizio Molinari trovate in libreria in tutti gli store il suo libro Il ritorno degli imperi in cui parla dettagliatamente di tutto quello che abbiamo toccato in maniera molto veloce questa sera con un sacco di mappe illustrate che vi permettono di capire la complessità del mondo in cui stiamo vivendo Maurizio grazie mille direttore